Ciao a tutti cari amici, bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, questa sera andiamo a vedere come vi pensa questa persona prima di addormentarsi, visto che vi piace molto dalle visualizzazioni. Ho preparato queste tre varianti, variante 1, variante 2, variante 3. Vi ricordo che sono interattivi, quindi sono validi dal momento in cui vengono visti e che inoltre vanno presi comunque con le pinze, cercate di non forzare le cose perché comunque sono per molte persone, le energie sono tante, anche le situazioni e di conseguenza evitate di addossarvi delle situazioni che non esistono nella vostra vita. Potrebbe esserci dunque solo anche un piccolo messaggio che deve arrivarvi, qualcosa che magari vi illumina o anche rispecchiarvi completamente. Qui sta a voi cucire in base alla vostra situazione. Ricordo inoltre che sono attivi gli abbonamenti, quindi nella community e nella pagina del canale potete trovare il video con tutti i dettagli per gli abbonati. Io vi lascio qualche secondo e poi partiamo subito con questo interattivo. Parto subito con la variante 1, quindi metto in parte queste due carte. Ricordo che se non avete fatto a tempo potete tranquillamente stoppare il video e quindi prendervi tutto il tempo che vi serve. Andiamo con la variante 1. Allora, innanzitutto andiamo a vedere chi siete voi, in modo tale che possiate riconoscervi. Allora, qui vedo che potreste dover essere in una situazione in cui è necessario prendere una decisione. Qui vi trovate di fronte a una scelta da prendere. Potrebbe essere tra due persone, potrebbe essere anche tra due vite completamente diverse. E qui non escludo per alcuni di voi che abbiate anche una relazione doppia, però che non vi soddisfa. Perché qua, come vedete sulla carta, abbiamo un mondo bianco e nero e un mondo invece che è estremamente colorato, bello e appagante. Quindi voi potreste aver trovato un'altra persona e questa persona potrebbe avervi fatto rivivere delle emozioni che magari era da tanto tempo che non provavate, non sentivate. Qui vedo che c'è una situazione comunque di serenità, di pace, di tranquillità, tutto sommato. Siete anche delle persone molto pacifiste, quindi che cercate anche dei compromessi nelle situazioni, eventualmente, però vedo anche che al momento siete al limite, state sopportando troppo e non ce la fate più. State decidendo, sapete che dovete prendere una decisione perché siete proprio a una sopportazione limite. Qui c'è qualcosa che non cambia, mi esce la storia infinita. Qualcosa che potrebbe anche ripetersi, ma magari potrebbe essere una relazione, una situazione che per voi è come se non portasse da nessuna parte. Vi trovate sempre nelle stesse condizioni, sempre con lo stesso tipo di emozioni che magari non vi soddisfano. Comunque, un po' anche vi incolpate qua, avete la sensazione che sia anche colpa vostra. Pensate di sbagliare le cose, vedete che il tempo passa e non siete capaci come di rialzarvi e prendere una nuova strada. Infatti qua mi esce anche la carta del riposino, quindi c'è proprio un momento di pausa, di fermo. Però vedo che questa situazione vi manda un po' in crisi. Nonostante ciò, siete abbastanza serene, tutto sommato. Non vedo che la vivete in maniera proprio drammatica. Anche se per alcune di voi potrebbe essere sì che, diciamo, questo stop, questo fermo vi causi un po' di sofferenza. Comunque, questo è quello che siete voi e che state vivendo voi nell'attualità dei fatti. Andiamo adesso a vedere come vi pensa questa persona, prima di addormentarsi. Allora, qua questa persona ha senz'altro dei progetti per voi. Vuole iniziare qualcosa, vuole costruire. Qui c'è un interesse, un interesse e questa persona potrebbe, allora, se questa persona è insieme con voi, quindi voi siete la donna ufficiale, chiedete per esempio per il marito, per il compagno. Questa persona sente un interesse nei vostri confronti che però, come potete vedere dalla carta, è più relativo all'aspetto economico, materiale. Cioè, un cuore, sì, però è costituito da soldi. Quindi questa persona potrebbe avere un interesse economico, quindi avere una relazione di tipo, cioè, interessata ma a livello economico. Ed è molto fedele a questa situazione, qua esce la carta del cuore. Comunque ha dei sentimenti che però è un po' come se fossero radicati. Quindi c'è un rapporto che comunque viaggia in ambe due le situazioni, quindi sia nell'aspetto economico che anche nell'aspetto affettivo. Però questa persona pensa o a un tradimento, ok, che vuole fare nei vostri confronti. Oppure potrebbe pensare che voi tradiate questa persona e nonostante lui sia così fedele nei vostri confronti, in tutti i sensi, qui sia a livello economico che a livello affettivo. Qui, diciamo, se siete impegnate con questa persona, cioè, se siete la donna ufficiale, questa persona potrebbe volere con voi un nuovo, anche figlio per esempio, una nuova nascita, un progetto di qualsiasi tipo, ma anche proprio un bambino. Cioè, il fatto di... Però qua è stata tradita in qualche modo la fiducia. O l'ha tradita lui o l'avete tradita voi. Vediamo che altro pensano nei vostri confronti. Qui c'è del desiderio sessuale. Qui vede la coppia verso di voi. C'è un desiderio sessuale. Qui se siete l'amante che chiedete, questa persona vi desidera sessualmente, però è estremamente confuso. Qua vede un sacco di ostacoli. vi pensa comunque con tenerezza, con dolcezza questa persona. Vede gli ostacoli perché cioè, lui, se siete la donna, la terza persona, lui è molto legato alla situazione che ha ufficiale. Infatti c'è una situazione di fedeltà, anche a livello economico, e comunque pensa a un tradimento. È che non sa comunque come fare. come fare. Ovviamente se siete la donna ufficiale, girate, perché qui il concetto è lo stesso. Ok, in ogni caso, qua lui si sente in coppia con voi che guardate il video. Che siate la donna ufficiale o che siate l'altra donna, questa persona percepisce una relazione. Però, appunto, se siete la donna ufficiale, qui questo uomo comunque sta pensando a un tradimento. Se invece siete la terza donna, qui, scusate, la seconda donna, qui naturalmente questa persona ha un'attrazione sessuale, però non è disposta a mollare la presa per quanto riguarda la relazione stabile. Ecco, forse perché voi avete questa situazione di decisione e questa storia infinita, perché molto probabilmente voi vorreste che questa persona in qualche modo venga da voi, però non ne potete più, però vi rendete conto che la situazione è stabile, è ferma e non va da nessuna parte. Va bene, variante 1, io spero che la stesa vi sia piaciuta, vi invito a mettere mi piace, di iscrivervi al canale e commentatemi, ditemi naturalmente se le varianti risuonano con voi. vado adesso a vedere la seconda, eccola qua, allora, ciao a tutti coloro che hanno scelto la seconda variante, andiamo innanzitutto a vedere chi siete voi che guardate il video. Chi sono coloro che hanno scelto la variante 2? sono uscito un sacco di carte, vediamo un po', vediamo ancora, chi siete voi? Allora, qui mi parla di una situazione che, diciamo, per voi risulta essere al limite, cioè voi vi sentite in una condizione in cui non ne potete più di qualcosa, cucite voi perché ovviamente è un interattivo anche breve per cui non vado ad approfondire, ma qui emerge appunto il desiderio di andare oltre, perché qui andare oltre o prendere una scelta, prendere una decisione, perché qua c'è proprio la pesantezza di essere nell'orlo del precipizio, ecco, quindi questa è la situazione principale, le emozioni principali che emergono. Emerge poi una situazione di taglio, qui potreste aver chiuso con delle persone, esservi allontanate, aver tagliato proprio i rami secchi, siete delle persone che comunque state, cercate la pace, la serenità, la tranquillità, qua mi esce la carta della pace che è la carta della serenità, quindi voi potreste aver tagliato con alcune persone per trovare un equilibrio, una tranquillità. Potreste essere innamorate attualmente, qua mi esce il cuore fedele, ok, o siete fedele anche una vostra passione, una vostra, anche un vostro progetto che avete intrapreso, però comunque in ambito sentimentale qua mi parla di una fedeltà, quindi di una persona che è nel vostro cuore e che non se ne va, quindi voi avete già, sapete già chi volete, sapete già dove è diretto il vostro cuore. Emerge poi qui una situazione di continuare a ruotare, quindi una sorta di inconcludenza, quindi questo è la percezione che avete voi di voi stesse, quindi chi siete voi, siete delle persone che hanno tagliato qualcosa con il passato per cercare una serenità, una tranquillità, siete innamorate, volete una persona, sapete anche chi è, ma avete l'impressione che non si concluda nulla, presumo con questa persona, cioè continuare a girare attorno a questa persona o voi potreste girare attorno a questo uomo o questa donna e non ottenere nulla e qua infatti c'è l'essere al limite, l'essere al limite, quindi voi qui vi sentite in questa situazione. Andiamo a vedere come vi pensa questa persona, la persona a cui state pensando. Se vi siete riconosciute qui ascoltate anche il resto, altrimenti se la vostra descrizione è completamente diversa, vi consiglio di ritornare alle varianti e scegliere un altro video, un altro interattivo. Vediamo come vi pensa questa persona. come vi pensa come vi pensa questa persona. Allora, qui abbiamo una persona che desidera incontrarvi, vi pensa pensa in una condizione in cui vi rivede. Vi rivede pensa di avere una certa libertà o questa persona tiene molto alla sua libertà e quindi è un po' bloccato perché appunto teme di perdere questa libertà. Nonostante ciò vi pensa insieme, cioè quantomeno insieme un incontro insieme con voi quindi questo è quello che vede e sotto nel fondo mazzo abbiamo il completamento la concretizzazione quindi questa persona desidererebbe avere una concretizzazione però sembra frenato dal fatto che teme di perdere la propria libertà. Andiamo a vedere ancora come vi pensa questa persona troppe caratteri aspettate un attimo vediamo come vi pensa questa persona qua c'è bisogno di equilibrio nella coppia o pensa che comunque ci sia una situazione di equilibrio per lui quantomeno come vi pensa questa persona sì allora questa persona vi conferma esce la coppia in fondo mazzo quindi vorrebbe una relazione vorrebbe concretizzare se non ce l'avete già perché ovviamente se ce l'avete è chiaro che vi vede come la persona importante della sua vita allora qui diciamo per la maggior parte di voi potreste essere in una situazione in cui di frequentazione ancora perché qui appunto mi esce che questa persona vi pensa come se immaginasse di incontrarvi di vedervi di passare del tempo con voi ok però è frenato dal fatto che teme di perdere la propria libertà pensa inoltre che trovando un equilibrio tra di voi trovando dei compromessi questa persona si possa sentire in qualche modo libera di avere questo rapporto e di interessarsi cioè di avere un interesse nei vostri confronti quindi anche di concretizzare molto probabilmente quindi qui naturalmente se volete avere un rapporto con questo uomo o con questa donna che vi vede molto bene ripeto in fondo mazzo c'era la concretizzazione della coppia però questa persona è un po' frenata io vi consiglio qui di cercare di non soffocare questa persona di lasciarla andare di frequentarvi serenamente senza però appesantire appesantire perché questa persona comunque vi pesa si vi pensa in senso positivo cioè vedo comunque una sorta di concretizzazione nei vostri confronti però ripeto c'è un freno qui per alcuni di voi non escludo che possa riguardare anche un problema economico che frena questa persona però voi ovviamente io non sto facendo un interattivo breve per cui cercate di cucire voi la situazione in base alla vostra realtà ok variante 2 vi ringrazio per aver seguito il video vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanellina così vi arrivano tutti i video che carico io vi do un abbraccio grande e vi aspetto con i prossimi interattivi passo adesso alla variante 3 coloro che hanno scelto questa bellissima carta meditazione per e creatività andiamo a vedere innanzitutto variante 3 chi siete voi che guardate il video chi sono le persone che guardano la variante 3 allora qui abbiamo delle persone estremamente contente felici appagate della propria vita della propria esistenza qua mi esce la carta della felicità a fondo mazzo quindi c'è siete delle persone comunque realizzate che state bene state bene chi siete siete delle donne e degli uomini estremamente creativi fantasiosi qua mi esce la carta dell'immaginazione quindi vi piace proiettare quello che avete che desiderate fantasticare qui potreste sentire per esempio di aver trovato l'anima gemella per alcuni di voi oppure avete un rapporto con una persona che amate profondamente sentite proprio che è la persona giusta quello che emerge anche è che avete la tendenza di concretizzare poco fate fatica a concretizzare infatti esce la carta del girare attorno allora o voi state girando attorno a questa persona che sapete o sentite che è la persona giusta per voi la vostra anima gemella oppure siete comunque delle persone che magari fanno fatica a concretizzare perché magari estremamente con la testa tra le nuvole perché questa carta comunque mi parla di persone estremamente creative estremamente immaginari immaginano moltissimo qui potreste comunicare molto qua esce la carta del messaggio in bottiglia quindi potreste comunicare molto con questa persona che voi considerate la persona giusta e diciamo che vi sentite benedetti forse per aver trovato appunto questa anima gemella che voi considerate tale vedo che siete delle persone estremamente comunicative e che state anche bene state molto bene ok qui non ci sono persone insoddisfatte qua c'è una fiducia in se stessi importante soprattutto per quanto riguarda tutti quegli aspetti di credenze per quanto riguarda l'anima sentirsi considerati per qualcosa di più grande ok qui c'è molta anche consapevolezza a livello proprio superiore ecco allora andiamo a vedere che cosa come vi pensa questa persona questa sera prima di addormentarsi naturalmente se vi riconoscete rispetto alla descrizione che ho appena fatto se invece vedete che non c'entra nulla vi consiglio di tornare alla parte iniziale del video e andare a scegliere un'altra variante vediamo come vi pensa questa persona prima di addormentarsi qui vediamo un po' allora qua c'è una persona assolutamente che vuole o che si impegna nei vostri confronti questa persona vuole proprio concretizzare vuole anche potrebbe chiedervi di sposarlo ricordo che io parlo maschile ma se siete uomini che guardate girate potrebbe esserci la proposta o una convivenza o un matrimonio è una persona che si vuole impegnare nei vostri confronti è una persona che vuole qualcosa di serio di importante qui c'è proprio avete delle belle carte non vedo però da parte di questa persona diciamo pensieri di amore qua c'è un pensiero di sessualità desiderio di appagamento sessuale attrazione c'è una carta di felicità quindi questa persona si sente felice vi pensa con pensa che abbiate un rapporto estremamente armonioso che sta bene che sta bene che si sente appagato che sta molto bene qui c'è una sorta di rallentamento potrebbe essersi o un leggero allontanamento o semplicemente come posso dire degli ostacoli dovuti magari anche alla vita quotidiana al lavoro difficoltà come dice semaforo verde e poi quello arancione che mi parla appunto di prudenza di prendere le cose con calma questa persona pensa che o c'è stato un rallentamento che forse perdura per un po' di tempo oppure che forse state correndo un po' troppo e c'è la necessità di andare un po' con i piedi di piombo semplicemente perché magari questa persona avendo appunto intenzioni serie vuole essere sicuro di intraprendere una strada importante e che lo porti a qualcosa di concreto realmente cioè magari teme di fare degli errori qui potrebbe appunto avere la sensazione che state avanzando un po' troppo ok quindi in questo modo vi pensa quindi a livello sessuale ha una forte attrazione vi desidera e ha una felicità un'armonia una serenità nei vostri confronti sta molto bene con voi e comunque ha delle intenzioni serie rispetto al vostro rapporto ok va bene variante 3 io vi ringrazio per aver seguito vi invito a mettere mi piace di iscrivervi al canale commentatemi ditemi se le stese risuonano con voi e vi aspetto con i prossimi interattivi di iscrivervi